Un nuovo cronoprogramma, tempi certi, lavori seguiti costantemente e se ci saranno altri ritardi il contratto verrà rescisso. Hanno ottenuto risultati importanti i ragazzi dell'Istituto Agrario che da giorni stavano protestando proprio perché da troppo tempo non avevano più una sede, visto che la loro scuola è interessata ad alcuni lavori. La provincia ha sottolineato che i ritardi al cantiere dell'Agrario di Via Fabi non sono imputabili a lente. L'amministrazione adesso ha interessato della vicenda alla task force del governo per l'edilizia scolastica ed è stata così trovata la soluzione. Nuovo cronoprogramma, appunto, per la ditta che sta eseguendo i lavori e monitoraggi quotidiani. Il nostro obiettivo resta quello di assicurare agli studenti una sede adeguata, ha spiegato il presidente Pompeo. Ci tengo a chiarire, così come ho spiegato direttamente ai ragazzi, che i ritardi per la realizzazione del progetto non sono imputabili alla provincia, che invece ha costantemente sollecitato l'impresa a completare gli interventi previsti. Abbiamo seguito e stiamo seguendo, aggiunge ancora Pompeo, quanto prevede la normativa in tema di appalti pubblici. L'impresa dovrà a questo punto allinearsi al cronoprogramma indicato dagli uffici della provincia, oppure si procederà nei termini di legge. Pompeo invita intanto i ragazzi a tornare in aula e a riprendere le lezioni.